Start, 2, 1, Mystery Mission, and Liftoff! Ora, io lo sto giocando proprio nelle ultime ore, quindi non so quanti giocatori troverò, Level Zero Extraction è il nome del gioco, uscirà nell'arco di quest'anno, c'è una roadmap qui, con le nuove, la 01, la 02, la 03, le varie cose che aggiungeranno, ed è un gioco, vabbè qua non ho mai giocato, c'è il tutorial, insomma ci spiegano che noi possiamo giocare sia nei panni dell'alieno, e l'alieno ci consente di ottenere delle risorse spendibili giocando come umano, quindi combatteremo con altri giocatori, e gli altri giocatori invece giocano contro gli alieni ed eventualmente altri giocatori, da quello che ho capito, ci sono i punti di restrazione, è un po' uno stile alien, quindi un po' horror, un po' extraction shooter, quindi recupero di merci, possiamo combattere contro altri giocatori usando armi melee o a distanza, e sperimentare differenti tipi di arma, munizioni, così, ci sono i trader, classico come Tarkov, ci sono le varie luci, le ombre, insomma siamo in un ambiente futuristico, dove c'è una mappa, e vediamo anche il battito, il beats per minute, che mostra la frequenza del nostro corpo, del nostro cuore, e aumenta con la corsa e altre cose, bisogna stare attenti quando il battito è alto, perché i mostri possono sentirti, no down, insomma si muore, finisce lì, io quando si muore come mercenari, si diventa questo drone, e controllando il drone puoi provare a non perdere il segnale con i tuoi alleati, la missione è accompagnare, assisterli, bene, non voglio essere da solo, allora abbiamo lo stash con le varie munizioni, quindi io posso prendere le armi, ok, non so se queste siano le armature giuste, ma io prendo pistola, questo, questo, e questo, hand flare, glow stick, questa è la stash quindi tutto quello che noi abbiamo, abbiamo possibilità di commerciare con i vari trader, le customization, che si spendono con i soldi di gioco, e credo possiamo provare a iniziare, vediamo un attimo, voglio solo tornare su, e riprendermi l'arma, l'arma, munizioni, si sono le armi giuste, pistola, start, solo o team, noi iniziamo in solo, dobbiamo trovare item di valore, accendendo le luci come protezione, incontreremo altri giocatori, e c'è il punto di estrazione in un punto, insomma, con una zipline, o piuttosto con, pagando dei soldi di gioco, come succede anche su Tarkov, in pratica, la premessa è praticamente simile, ora, lo proviamo, vediamo un attimo il tempo di caricamento, adesso non so quanta gente ci sarà a giocare, lo vedremo anche dal punto di vista grafico, ok, siamo già dentro, iniziamo da soli, quindi moriremo in fretta, sarà un video abbastanza veloce, perché non so quanta gente trovo, dato che scade il 18, e siamo alle 11 di sera del 18, quindi, non lo so, però, volevo approfittarne per farvelo vedere, ok, abbiamo il deploy in 10 secondi, vediamo quanto duriamo, non uccideremo nessuno, sicuramente, abbiamo l'accesso, il gioco mi segnala che abbiamo l'accesso al microfono, graficamente è molto carino, Use light to deal damage to monster, ok, è molto bello, molto molto bello, sembra di giocare quasi in VR, allora, fatemi vedere, col tab, equipaggio, ricarico, le armi sono fatte benissimo, ok, c'è si inclina, cerchiamo di non fare rumore, ho visto qualcosa, ho visto delle luci tipo laser, accendiamo le luci, merda, le torrette, possono sentirti, ho i mostri, perché ho il battito che batte forte, c'è qualcosa lì, come c'è la luce, sentite anche voi correre, adesso, io non so, è una torretta, non è un altro nemico, non ho preso neanche medikit né niente, quindi, ah, sono quelli robottini lì che passano, hai capito, fammi un po' vedere una cosa, voglio equipaggiare un fucile un pochino più serio, ce la pompa, in modo che, non lo trovo qualcuno, la vita non è neanche altissima, quindi, mi sa che ci sto lasciando le penne, ora, vediamo, chi cacchio, ma in realtà non ho capito se ce l'han con me, o ci sono anche altri giocatori che stanno passando, l'alieno, l'alieno non entra qui, certo perché c'è la luce, però potrebbe far saltare la luce, older to be treated, ok, mi sta ricaricando la vita, ma al tempo stesso, ma al tempo stesso, mi si è spenta la luce, mi è andata via la luce, no, non posso uscire di qua, no, non voglio uscire, mamma mia ragazzi, fatemi usare le glow stick, ok, ha un'atmosfera veramente molto 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 bella, molto bella davvero, secondo me può essere anche un bel gioco divertente questo, se è giocato con amici, non mi dà neanche l'idea di essere così, oh, questo è un, no, 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 ma ho ucciso un altro giocatore, you are dead, molto male, ho perso, ho perso, sono morto, ho esitato, sapete che forse prendo questa, 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 e questo, prendo, no, queste sono capsule, prendo un'accetta, e un hand flare, e torniamo dentro, immediatamente, poi ci sono le safe slot, che sono quelle come Tarkov, dove vi permettono di, non perdere un determinato oggetto, se l'oggetto è in quella tasca, se no, in alto a destra, vedete i soldi che ho, 10.000, con cui poi probabilmente potrò fare, acquisti, però è molto carino, questa dinamica della luce, il fatto di accendere le luci in fretta, se no arriva l'alieno, oltre agli altri giocatori, che mi hanno spianato, io spero che abbiano, una, mi sembrava da solo lui, penso che, e spero che le partite, siano in matchmaking, con altre persone, che come me hanno scelto di giocare da sole, se no non ha senso, la fermata è questo, la fermata è questo, e questa, e alla quarta è questa, adesso inizio a prenderci un po' la mano, ricarico, pistola fatta già meno bene, però, il fucile a pompa mi piace molto, la luce sta per spegnersi, avete visto il laser, quindi qui c'era qualcuno, la mappa c'è, la mappa c'è, non vedo luci, lì, è lì, una mina, benissimo, e sono già praticamente quasi morto, ma qua ne è morto uno, il loot, funziona più o meno come Tarkov, cioè nel senso che comparino con calma, prendono, mettono il backpack, questo è proprio stato sifonato qua, o era un NPC, sì, mi sembra più un NPC, però il loot è, uguale, voglio accendere la torcia, accendi la luce, e hop, morto di nuovo, ucciso da una torretta, quindi torrette, ho perso 4200 di, 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 come si chiamano, equipaggiamenti, ma io posso già equipaggiarle così, sì, quindi fammi prendere, tanto sto già buttando via tutto, quindi, mettiamo ancora questo, tanto si muore facilmente, qui, quindi, eh, così, va bene, dai, vai, subito, in, in team mi metterebbe con altre, altri giocatori di due, tre squadre di due, mi pare, ci sono anche i neurochips, che non so cosa siano, ma credo siano dei potenziamenti, da, da montare, ah sì, tre persone, vedete qua in alto a destra, ci sono le altre persone, con cui poi potrete invitare i vostri amici, di steam, proviamo l'ultima volta, e vediamo come va, vediamo com'è, ultima prova, si mette molto male per noi, perché abbiamo già perso tutte le armi, dovremmo giocare, è un po' come giocare lo scav su Tarkov, se qualcuno sa che cosa intendo, nel senso che giocate come alieno, e riaccumulate magari un po' di equipaggiamento, un po' di soldi per lo meno, per comprare equipaggiamento, che è una dinamica, che comunque è interessante, abbiamo l'open, qui per curarci, ma non mi serve, c'è una torretta di là, le torrette mi hanno già rotto le palle, c'è qualcosa qua da prendere, mega chip, ok, devo trovare la zona di estrazione però, exception, sento qualcuno, si, sento qualcuno, hanno acceso la luce, la torretta non mi ha visto, però sta andando verso la luce, quindi mi sa che sta arrivando qualcuno da là, a meno che non siamo più piani, sono in silenzio, ecco che arriva, questo mirino, mi ha visto, la torretta, c'è una torretta anche di là, c'è un oggetto qua di valore, il problema, è che è un bel, un bel dualismo, accendete la luce, vi vedono gli altri giocatori, probabilmente anche le torrette, ma quelli vi vedono anche al buio, ma al tempo stesso l'alieno non vi può prendere, quindi bisogna scegliere la soluzione migliore, qua dovrebbe esserci una zona di estrazione, credo, almeno all'aperto, mi pare ci sia anche una zona di estrazione, con la zipline, qua è chiuso, molto bella l'ambientazione, che non ho ben capito che tipo di ambientazione sia, nel senso che dovrebbe essere futuristica, ma un po' anche alla Star Citizen, con i tipi di armi, e c'è un tipo, c'è una torretta, la torretta è qua dietro, vedo che sta arrivando, la vedo, non l'ho ancora visto, ho sentito un po' ad aprirsi, guardo che sono morto prima, ho sentito qualcuno, qualcuno che si muove qua, niente, è andata malissimo, malissimo, è andata, sono praticamente quasi morto, sono a terra, e sto sanguinando, e morirò breve, infatti sono morto, niente, è andata completamente, non ho sparato un colpo, però, spero di avervi dato, la giusta impressione, sul fascino che ha questo titolo, per quanto difficile, Mixed Out, Dark of Alien, e altri giochi di questo tipo, quindi di extraction, un pochino oro, un pochino comunque, competitivo, che è davvero molto interessante, soprattutto se giocato con amici, secondo me può essere divertente, la cosa che mette un po' ansia, è il fatto della stash, perché comunque, un'altra che la finite, non ne avete più, ma, al tempo stesso, se i venditori, non hanno, gli stessi limiti, di Dark of, che vi chiede un tot di reputazione, un tot di soldi, ma potete andare, però, secondo me, può essere interessante, bisognerebbe giocarlo, anche come alieno, per capire come funziona, perché probabilmente, gli alieni che vedete in gioco, sono altri giocatori, quindi, fatemi sapere, che cosa ne pensate di questo titolo, e alla prossima, e ciao ciao. Grazie a tutti.